Parliamo adesso di cronaca, una vera e propria boutique della droga, così l'hanno chiamata i carabinieri di Francavilla al mare, che l'hanno scoperta. 65 kg di marijuana in confezioni da un chilo ciascuna, 33 kg di hashish in confezione da 250 grammi e mezzo chilo di cocaina divisa in buste da 100 grammi. I carabinieri hanno arrestato un 29enne originario della provincia di Bari, domiciliato nel Chietino. Da mesi i militari erano appostati davanti ad un garage nei pressi di Piazza Sant'Alfonso per osservare i movimenti del corriere di una nota società di consegna, la cui improvvisa comparsa nello stabile era stata segnalata al comandante della stazione. Ieri intorno all'ora di pranzo un ragazzo con un furgone, con un logo e con una regolare divisa da corriere ha parcheggiato di fronte al garage e ha iniziato a scaricare degli scatoloni. I militari lo hanno bloccato e hanno cominciato ad aprire questi scatoloni scoprendo tutta questa droga di varia natura. Poi controllando il telefono hanno trovato le foto di una serra attrezzata in maniera professionale. Una serra che ha ricondotto i militari ad un indirizzo di San Vito Chietino e sul posto sono state trovate due celle frigorifere con 230 piante di canapa, alte già 30 centimetri e con l'attrezzatura per farle crescere e poi una seconda serra ancora in fase di allestimento. Insomma un totale di circa 100 chili. Il 29enne ora dovrà rispondere dell'accusa di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.